Ciao, benvenuto o benvenuta. Se mi stai guardando ti dico che sei arrivato su Arte per Te, un mondo, un canale dedicato interamente all'arte. Io sono Ombretta e dell'arte ho fatto il mio mestiere, la mia passione e la mia vita. E mi faceva piacere condividere con voi tutto quello che so riguardo all'arte. Probabilmente stavi cercando qualcosa di inerente al mondo artistico, alla creatività, alla pittura. Bene, qui troverai tutto quello di cui avrai bisogno. Guardando qui giù e scorrendo le varie playlist che troverai proprio sotto a questo video, ti potrai accorgere che su Arte per Te si parla di pittura, di disegno, di iconografia, di storia dell'arte, di creatività, di fai da te. Insomma, si parla davvero di tanto. Con Arte per Te ho voluto creare una casetta virtuale in cui andarsi a rifugiare quando si ha bisogno di un po' di creatività, un po' di fantasia, un po' di tempo per se stessi. Bene, mi fa piacere che da oggi ci sia anche tu. Se vorrai potrai venirmi a trovare anche sulla mia pagina Facebook e sul mio blog. Anche lì si parla di arte, ma in maniera più veloce e divertita, perché qui dovrai aspettare i miei video, mentre lì sarai in contatto con me quotidianamente. E benvenuto, benvenuta nella mia coloratissima vita, di cui oggi fai parte anche tu. A presto, ciao!